il punto di Nino. Pai Nino. Grazie Fabio. Allora, tre pere. Tre pere al magazziniere, al massaggiatore, al capotifoso, ai figli di vecchie glorie e a qualsiasi passante avesse deciso di partecipare alla folkloristica conferenza stampa, non so, era inviti probabilmente, del Toro il giorno prima del derby. Meno male che poi c'è il campo dopo queste cose. Il campo che ha detto che la Juve è più forte. Il campo che ha anche detto che far entrare Dybala e Pjanic è meglio che far entrare Acqua, Bouglié e Martinez, evidentemente. Onore comunque a Mihailovic, mi tocca dirlo, perché almeno lui ci ha provato a vincerla, a differenza di quello che faceva Ventura negli anni scorsi, che non ci provava nemmeno quando erano in 11 contro 10 e alla fine perdeva uguale, quindi almeno questo ci ha provato, via. Per quello che riguarda noi dico che io come sempre a ogni cambio che Allegri fa durante la partita, ammetto di non essere mai d'accordo con lui naturalmente, salvo poi accorgermi nel giro di 10 minuti che aveva ragione lui ed ero io che non ci avevo capito niente. Forse sarà per quello che lui è in panca e fra l'altro oppure ben pagato e io invece digito su una tastiera o parlo in radio o in tv e cose del genere. Comunque seriamente è stato un bel derby, l'abbiamo giocato bene, vinto bene e anche meritatamente in modo secondo me più che convincente. Per quello che riguarda gli avversari, Belotti è davvero forte, infatti ha picchiato e protestato per 95 minuti e quel gobbo dell'arbitro Rocchi ha ammonito Rugani e non lui. Il vecchio gomito granata, in questo caso quello di Belotti, ha colpito ancora, forse era un'altra la parte del corpo a cui loro facevano riferimento ma non importa. Io ho contato almeno 7-8 falli commessi da Belotti nell'arco della partita, mai fischiati. In compenso ho visto Rugani e Mandzukic ammoniti ma non ho capito se siano stati ammoniti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Boh, non lo so. Misteri dell'arbitraggio di Rocchi. Tra l'altro non avendo voglia di lamentarmi per i prossimi 18 anni, faccio anch'io come ha fatto l'arbitro e faccio finta di non aver visto Castan su Licksteiner, perché altrimenti poi tocca rompere le balle a tutti per 18 anni e non è il caso. Abbiamo un buon vantaggio in classifica, adesso sotto con la Roma in attesa naturalmente della Supercoppa col Milan perché primo trofeo di stagione farebbe anche piacere portarlo a casa. A proposito di Roma, meno male che Strootman c'è, se no sai che palle voglio dire, fra Scudetti Morali, Turone che con il suo gol penso che sia in arrivo nei prossimi giorni, poi non lo so i guanti di Aldair, il controfallo di Sissigno, magari sarebbero graditi anche il sistema di De Santis o il campionato a parte di Totti, non lo so, che facciano non c'è problema. A proposito di Roma, Pjanic, 6 gol e 6 assist, però è un problema, è un problema perché non si è ancora inserito, come Higuain che ha alzato 12 gol ma è grasso, è triste, non si trova con i compagni, ha nostalgia di Napoli e così via. Mangiukic invece viene sostituito e va in panchina, va in panchina e incazzato nero naturalmente, va in panchina e incazzato nero però guarda caso poi nelle immagini dell'esultanza collettiva al secondo gol di Higuain si vede che lui è il primo che corre a abbracciarlo. Mi sa che forse siamo una squadra che che ne dicano coloro che tendono a voler dimostrare il contrario. Due parole per chiudere sui sorteggi di Champions League, andavano evitate, per quanto mi riguarda almeno, per come la vedo io, andavano evitate Real, Bayern e City, fortunatamente ci ha detto bene, con il Porto comunque non sarà facile, il Porto comunque ha eliminato la Roma che è la squadra che gioca il più bel calcio d'Europa credo insieme a Napoli, non sarà facile ma si può fare in ogni caso, ecco si può fare. Io per motivi scaramantici avrei preferito il Paris Saint Germain perché come ho già detto in passato, li abbiamo incontrati quattro volte, li abbiamo eliminati quattro volte e abbiamo vinto quattro coppe ogni volta che li abbiamo incontrati in pratica, però con il Porto comunque abbiamo un bel precedente perché c'è una finale di Coppa delle Coppe dell'84 che coloro che sono diversamente giovani come me potrebbero ricordare con gol di Vignola e di Boniek, poi li abbiamo beccati una volta una quindicina di anni fa quando facevano la Champions League con due fasi a gironi anziché una, quindi giusto per complicare ulteriormente la vita insomma, in quel caso facemmo una vittoria e un pareggio, segnò anche Montero tra parentesi, una cosa curiosa ma comunque importante. Per quello che riguarda poi il sorteggio alla fine vabbè, mi spiace per il Real perché fra tutte ha beccato proprio l'unica squadra che gioca meglio del Barça insomma, per loro non sarà facile sicuramente per il Real intendo. Derby, il derby Nino, hai sentito? Esatto, il classico, il classico. Non sarà facile per loro però io, come dire, sarò pure gretto e meschino ma per motivi di market pool tifo comunque Real. Mi fermo qui e cedo la parola, se qualcuno è già arrivato nel frattempo, dirà c'è il dovere. Ecco, infatti